E' bello amare il calcio, Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buon pomeriggio da Matteo Marcedu, bentrovati a Napoli-Chievo-Verona, 31esimo turno di campionato. Arriva il fischio e si va con il primo pallone di Napoli-Chievo-Verona. Diavara, a sinistra accompagna Mario Rui, più largo c'è Insegna che riceve, con il destro il cross al centro, verso Callejon, che sotto la porta sbaglia incredibilmente. Entra in aree, Insegna fa da solo, calcia! Ancora all'esterno della rete. Altro attacco del Napoli, nell'ultimo minuto di primo tempo, Mertens con la girata! Sorrentino blocca, terra il pallone. Arriva il fischio e si parte, si va con il primo pallone del secondo tempo. Verticale Mertens, prova a partire lui, chiede lo scambio, chiuso con Callejon! Giù in area di rigore, è calcio di rigore per il Napoli, è già monito De Paoli. Arriva il fischio. Sorrentino para! Insigne! Sbaglia, il pallone è fuori, non arriva il vantaggio del Napoli. Mario Rui, batte col mancino, profondo verso il secondo palo. Mertens di testa, cerca la porta! Sorrentino para, non è finita! Allan, Insegna e non calcia Coulibaly burato! Azione pericolosa del Napoli con Mertens che colpisce di testa verso la porta, la toglie Sorrentino. Bastien fermato senza fallo, il lancio d'insigne per Milik in area di rigore. Milik col tocco sotto, Sorrentino! Occhio all'attacco del Chievo Verona, Stepinski riceve, Stepinski caccia e trova il gol! Trova il gol, Stepinski è in vantaggio il Chievo Verona al minuto 28 del secondo tempo. Napoli 0, Chievo Verona 1, terzo gol in campionato per Marius Stepinski. Classe 95, è lui il polacco a fare la voce grossa in questa partita. Va con il destro lo spagnolo, salta Coulibaly, Tonelli sulla traversa! Ancora buono il pallone! Messo in calcio d'angolo, Tonelli colpisce la traversa! Insegne la sua finta, palla sul destro, arriva la conclusione ancora Sorrentino! Non è finita, Cagliecon, la palla al centro dell'area di rigore, allontanata da Radovanovic. Insigne, è partito Milik, la palla è per lui, è buona di testa! Milik! Milik! Ha pareggiato il Napoli al minuto 44 del secondo tempo! Napoli 1, Chievo Verona 1, Arcadius Milik! Il cross dentro, a cercare Milik! Il pallone fuori! Bate Cagliecon, cercato Milik, la palla è per Diavara che prova a calciare! Diavara! Diavara! Rimonta al Napoli con Diavara che la mette in porta! Tre punti molto vicini per la squadra di Sarri! Sembrava impossibile e invece è successo! E avanti il Napoli! Arriva il fischio, titoli di coda! Il Napoli rimonta in extremis e batte il Chievo Verona 2 a 1! L'acqua fino alla via! Grazie a tutti.